In quattro restano gli arresti domiciliari e in due nel carcere di Vialamaccio. Il GIP del Tribunale di Sulmona, Marco Biglia, ha rigettato le richieste di revoca delle misure cautelari, presentare dai legali delle sei persone arrestate alle carabinieri lo scorso 23 gennaio per traffico illecito di droga e tentata estorsione. L'operazione denominata La Fenice conta complessivamente 18 indagati. Uno dei sei arrestati, E.B., 26 anni di Sulmona, è stato scarcerato nei giorni scorsi. Deve rispettare solo l'obbligo di firma. Nel carcere di Vialamaccio sono finiti G.G., 37enne di Sulmona e M.L.D. Agli arresti domiciliari E.D., 31enne albanese, residente a Prato La Peligna, T.F., 25enne, L.C.A., 39enne, L.D.L., 31enne, tutti di Sulmona. In carcere è finita anche un'ottava persona, fermata nella capitale e ristretta nel penitenziario di Reggina Celi. Agli arrestati vengono contestati a vario titolo e reati di traffico illecito di incendi quantità di sostanze stupefacenti in concorso e tentata estorsione per due di loro, commessi principalmente in Valle Perigna, particolarmente a Sulmona, Raiano e Pratola. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 1,2 kg di marijuana, 74.000 euro in contanti, un disturbatore di frequenze e un pugno di ferro, utilizzato probabilmente per le tentate estorsioni. I legali sono pronti a ricorrere intanto al Tribunale dell'esame.